Attimi di paura al supermercato MD situa all'interno della cittadella del Gran Sole, località Mattine ad Agropoli, dove nello scorso weekend due persone armate a volto coperto sono entrate all'interno del locale per rubare l'intero incasso della giornata. Il tutto è accaduto poco prima della chiusura, intorno alle ore 21 circa, quando i malviventi, incappucciati e con in mano una pistola, hanno fatto irruzione nel supermercato e dopo aver minacciato e ferito con il calcio della pistola uno dei dipendenti, hanno afferrato il denaro contenuto all'interno delle casse e si sono dileguati subito dopo. Non si esclude l'ipotesi della presenza di altri complici all'esterno del centro commerciale alla guida di un'auto, sul posto sono giunti tempestivamente l'unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella e i carabinieri della compagnia di Agropoli diretti dal capitano Francesco Manna, che ora indagano sull'accaduto. Fortunatamente il dipendente del centro commerciale non ha riportato gravi ferite, l'incasso rubato sarebbe pari ad una somma di alcune decine di migliaia di euro. Secondo alcune testimonianze, il centro commerciale era chiuso e uno dei malviventi che era nascosto, probabilmente all'interno del bagno, avrebbe fatto entrare i suoi complici dalla porta di emergenza centrale. Intanto a porre l'attenzione su quanto accaduto è stato Luigi Circiello, commissario cittadino della Lega Salvini Premier, ultimo in ordine di tempo e di una serie di atti criminali che ormai da anni si verificano in città. Lo ha definito il commissario qualche settimana fa si è giunti perfino all'assurdo con il caso della camorra dei Rom arrivati a minacciare i locali carabinieri. Gli stessi Rom che si sono resi responsabili anche di gravi atti minatori ed intimidatori, anche con minacce di morte rivolte al coordinatore del sistema di raccolta dei rifiuti del comune di Agropoli e di alcuni comuni limitrofi. Intimidazioni finalizzate ad ottenere assunzioni di loro familiari, sottolinea Circiello. Agropoli, città capofila del Cilento, con una economia prevalentemente turistica, con un ospedale che si è visto scippare dalla regione Campania per pagare alcune fritture, sta scivolando lentamente e inesorabilmente in mano alla criminalità di ogni genere ed è opportuno quanto prima un intervento fermo e risoluto perché cittadini e turisti devono vivere, lavorare e riposare serenamente. Pertanto, conclude Circiello, compatibilmente con i lavori parlamentari, sarà cura della Lega di Agropoli chiedere per il tramite del proprio parlamentare, onorevole Gianluca accanto alla messa, una interrogazione parlamentare al ministro competente per trovare una soluzione al problema sicurezza in città ormai non più procrastinabile.